Gocce di Natale 2016, prosegue il nostro viaggio per le tue idee regalo nel Vallo di Diano e non solo. Siamo a Sant'Arsenio, amabile fioristi. Entriamo all'interno dell'attività per scoprire cosa ci aspetta e cosa ti aspetta. Un Natale senza un fiore, che Natale è? Composizioni floreali, le migliori composizioni e tutto quello che cerchi, articoli da regalo, oggetti per la tua casa, piantine per il giardino e per la tua abitazione. Il fiore ha vita breve ma l'emozione che suscita può durare per sé. Ma non solo, amabile fioristi, anche composizioni artigianali per ogni evento, per ogni occasione, composizione artigianale anche di cestini per il tuo Natale, ma anche articoli in ceramica che danno un tocco di classe, colore e bellezza alla tua casa. Non dimenticare per il tuo Natale, per le tue feste, ma per ogni tipo di evento e occasione, amabile fioristi in Via Foce a Sant'Arsenio, all'ingresso della cittadina, nei pressi della rotatoria, a pochi metri dalla Banca Montefiore. Lo staff amabile fioristi vi augura buone feste. Grazie a tutti!